ma ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video qua su brawl stars oggi siamo qui per andare a fare la seconda parte del box opening di cui nei scorsi video ho trovato ambra quindi io prima di iniziare col video vi ricordo like, iscrivetevi al campanellino ma ora si parte allora allora io è da ieri che non apro più brawl stars quindi andiamo a riscattare tutte queste cose qua e a vedere un po cosa c'è nel nego ma che che ma innanzitutto pacchetto di reazioni cosa che sicuramente non sciopperemo pacchetto di reazioni la skin di colton è carina ma non mi piace e poi c'è l'offerta da 10 euro e 99 andiamo a riscattare questa che è gratuita e quindi non si butta non si buttano mai le cose gratuite ragazzi non so se prendere leon lupo o zombibio insomma una delle skin una delle skin di halloween sono un po indeciso ecco non so che fare quindi scrivetelo scrivetelo nei commenti per farmi sapere voi cosa e quale skin preferite però andiamo a vedere le missioni abbiamo una missione con frank che non la farò perché mi fa schifo come brawler che non si offenda a nessuno però vabbè poi coccolette bella coccolette in sopravvivenza in 2 allora missione con colette di fare mi pare i danni se non sbaglio si intanto prendiamo i power up sai che ti dico opple alla danno opple eccolo lì però adesso gli rinasce il compagno non l'ho presa gli avrei potuto dare il colpo di grazia ma l'ha ucciso ok buono direi che io qua gli vado qui sì certo mi faccio fregare così bravo bravo no non è vero sbagliato la ultima non è vero non è vero si è incastrata al muro no no aspetta adesso io sono rinato ma perché siamo ancora in 5 ok ho preso i power up ma non riesco anche ancora 3 oh alleluia e quindi ho fatto anche la missione della partita vinta no l'ho ucciso vai prendi tutti i power up bussati bussati più che puoi più che puoi no indietreggio bravo ma dai ma puoi andare a morire così ma ritorna dietro ok vabbè insomma seconda partita coccolette stavo per morire emz l'ho colpita attenzione non ti far uccidere dai non ti far uccidere da iris ultime parole famose dove che adesso mi uccide anche a me sarebbe il colmo dai due secondi ok buono 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 ma come è morto subito tra l'altro sto vedendo ultimamente un sacco di gente che si chiama tomar cose così oh schivato ma no dai oh è rinato buono nooo con un colpo allora allora siamo con la terza e ultima partita per oggi e poi andremo ad aprire un sacco di gas ragazzi quindi mi raccomando rimanete sintonizzati vai prendi la te quella che io cerco di andare a colpire dato che devo fare i danni buono 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 è buono e vai a casa e vai a ca no dai ho preso il muro fratellino eccoci eccoci basta non ci sono problemi su ma non morire compagno mio non morire così va bene è rinato il nostro compagno ragazzi comunque osservazioni questo brawler questa skin qualcosa di stupendo guarda se non morire per favore ti dico tanto non morire non morire poi ci andrò a morire io ma questo è scontato bravo però eh ragazzi qua siamo in un bel panino ok questo taglio questo taglio che ho fatto mi è piaciuto in mezzo alla mappa per andare a confondere un po' il nemico spero che si fai fai di neutral di loro non pushare non pushare eh vabbè vabbè però vabbè non è vero mamma mia ragazzi se me lo chillavo scusate se avevo detto che quella era l'ultima partita in realtà non lo è perché almeno voglio fare una soglia del pass ok meno male che ha usato l'automiro bravo finalmente qualcuno che sa giocare un player che sappia giocare no non andare a morire però dico che sai giocare e vai a morire e niente il corvettino se io però direi di fare così non l'ho preso bella questa automiro scusate ma non l'ho visto stavo guardando da un'altra parte errore mio errore mio lo ammetto errore mio però diciamo che ci interessa poco volevo soltanto prendere questa soglia del brawl pass quindi io direi di iniziare subito andiamo subito con una cassa enorme quindi attenzione aspettiamo l'aprimi proprio l'oro aprimi ho con la 57 quindi niente credo ok infatti niente ma andiamo avanti subito un'altra cassa enorme ci riserva ci riserva 43 di oro niente niente comunque ragazzi dovete andare avanti un attimo l'altro giorno stavo così avrendo una cassa a caso e ho trovato il secondo gadget di penny così per la cronaca ma andiamo avanti un'altra cassa enorme credo che le apriremo tutte queste ok 3 e niente neanche qua beh ragazzi ma abbiamo appena trovato ambra ma cosa ci aspettiamo da queste cassa enormi ovviamente niente infatti ovviamente niente andiamo ancora andiamo ancora dai questo box opening si fa sempre più belli belli complimenti complimenti belli questi due skip andiamo avanti eh no 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 non è lui non è quello skip luminoso mi dispiace ma non è quello skip luminoso dai dai aspettiamo che sto apri eccolo qua niente mi dispiace ma neanche questo è uno skip luminoso io direi ragazzi che almeno un gadget sono abbastanza deluso quindi credo che andrò ad aprire anche una mega cassa ma va bene tra l'altro colette ambra nella stessa cassa quindi buono buono che me le voglio maxare entrambi quindi 71 sì ogni volta maggiore no no non mi piace così non va bene non va assolutamente bene eccolo no dai 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 è questa guarda me lo sento è lei ma dai ma no ma mi faccia il piacere vabbè dai altri due casse enormi eccolo è questa per forza no dai no dai ultima casse enorme ah aspettate no ultima casse enorme ultima casse enorme quanto riguarda vabbè buoni era doppio aggettore quanto riguarda QS finali ma credo di andarne ad aprire qualcun'altro perché sinceramente lasciare il box opening così spoglio quindi andiamo cosa 123 monete ma state scherzando spero ma mi fate trovare un gadget chiedo un gadget ho tipo il 3% no dai guardate ci rinuncio smetto anzi ne apro ne apro altre 3 ne apro altre 3 per arrivare a 20 precise precise guardate 20 precise precise così 1 ce la siamo levata e niente tanto ci stiamo maxando l'account ragazzi quindi buono così però finchè non troveremo spike immaginate che non troveremo spike trovo spike ma mi pare un po' improbabile quindi ultima cassa per oggi aspettiamola aprimi è questa dai è l'ultima cassa per favore blowstars riservami qualcosa di succulento qualcosa di goloso niente attenzione attenzione addirittura due skip quindi direi ottimo che dire ottimo in realtà no però io con colette e con questa schermata direi che è tutto è giunto al termine anche questo video se siete arrivati fino a qua vi ricordo like iscrizione e campanellina siamo quasi a 200 iscritti quindi dai dai condividete questo video facciamo crescere il canale dai per favore quindi io direi che per questo video è tutto bella